la seconda parte di fs8 per pc e dei nuovi gameplay la In questa racconta di in breve si fa vedere i nuovi livelli del gioco. Allora ci sono nuove passi da fare nella modalità per piedi, con l'aggancio della pinna a tutti Qua guido il moto dove stiamo andando alla borsa, vediamo una certa veloce e veloce. Questa parte! Non, non! è stato un po' rara è bloccato qua è troppo un po' di un'altra mano veniamo la qui qua non c'è qui mi interroga ah è che Facciamo la macchina da comprare Comunque tu ti vedi, non... Ha qualche di punti, non ti ho visto Guarda qua c'è... Sto vivendo Sto vivendo Sto vivendo anche Ok Questa venta prima non c'era Speriamo, aspettando qualcuno in questo secondo e speciale gameplay di Aspettato, un giro se il pilota, quindi quello che si oppone, questo è magari online, non offline, bene. Si è bello, si è vecchio, è per costare impegnativo. Sono dei migliori, per quanto riguarda il nostro cliente? Questa è un'altra cosa, per quanto riguarda il nostro cliente, un'altra cosa... ...e uno che miocca è un'altra cosa, per quanto riguarda i nostri amici, la portabile che uso per fare l'emprete delle giopoli purtroppo è vecchioso per le nuove accennamenti per le nuove accennate le nuove accennate il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito qui si oltre le nuove accennate non c'è anche la tiene una scala ma che si oltre le nuove accennate si non c'è un'ultima il corpo Purtroppo a giornalizzato, lo fanno più pesante e sicuramente con lente nel portate lo hanno sempre più specializzato. Purtroppo a giornalizzato, la pubblicità non solleva che non mancano mai. La rama del drago, questo è pure nuovo, che negli altri, sempre passati, perché anche non c'erano. Allora, guarda, c'è sempre un giro. Speriamo, con questa gara, il secondo gameplay, perché il gameplay di FSO e vediamo di farne qualcuno in più rispetto agli altri passati. Per quanto riguardano i giochi di piatto... ...contate che ci hanno... ...non leggermente del gioco contenuti. E questa è la mia... ...devo fare... ...fatti che è differente. E' questo, non immaginavo che devo andare a finire così, non immaginavo a posta, non immaginavo a ottenere, non immaginavo a ottenere, non immaginavo a distorzare e dai ti. si è giocato nel ecco beh buona colombolaudo colombolaudo si è giocato si è giocato I think I'll keep talking about that All right Woo! Fun Concludiamo qua il secondo Stakel di FS8, che è una lega di play, e andiamo adesso per completare questi contenuti, alla prossima!